Nicola Molteni, che cosa ne pensa del bando proposto dalla Prefettura di Como? Credo che sia uno scandalo. Credo che spendere e utilizzare più di 4 milioni di euro per garantire accoglienza, vitto, alloggio, il pagamento delle sigarette, la tv satellitare, ai migrati clandestini e profughi sia uno schiaffo morale ai cittadini comaschi, credo che sia uno schiaffo morale a quei cittadini comaschi che oggi vivono nella difficoltà e nella povertà. Si rischia di alimentare un business dell'immigrazione incontrollato con danni e effetti assolutamente negativi e soprattutto nel momento in cui la provincia di Como soffre una carenza di risorse, ad esempio il fatto che non vi sono i soldi per poter garantire la pulizia delle strade dalle nevicate rappresenta l'ennesimo gesto contro i cittadini canturini. Abbiamo presentato immediatamente un'interrogazione parlamentare al Presidente Renzi, complice dell'invasione e della gestione dell'immigrazione clandestina. Non escludiamo come Lega anche di fare iniziative di piazza proprio per sollecitare i cittadini comaschi contro questa palese e violenta ingiustizia ai loro danni.